Maestro Mauro Caputo 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 Bravo, bravo, bravo Sono curiosa maestro, sono curiosa, che voto gli diamo da 1 a 10 a Nando Butavoli per questa interpretazione, sono curiosa. Ti ripeto Marianna, quando l'ho chiesta al maestro ho detto la faccio perché mi piace tantissimo, quindi non ho mai pensato perché non esiste, il maestro l'ha portata a un grandissimo successo e noi dobbiamo essere veramente orgogliosi di avere ancora a Napoli una colonna così importante. Va bene, va bene, grazie.